Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video! Sto sperimentando una nuova postazione, non sono più seduta per terra, ma sono su una sedia e ho voluto fare questa situazione un pochettino più ombreggiata, un po' più contestualizzata per rendere anche i video magari più rilassanti e non il solito sfondo bianco, super luminoso, super tutto quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Nel video di oggi, avrete già capito dal titolo, andiamo ad aprire il calendario dell'avvento di YesStyle. Raga, quest'anno è bellissimo, cioè l'anno scorso era bellissimo, quest'anno è ancora più bello, cioè non so come dirlo e guardate che carino che è, ha tutti questi orsacchiotti rose azzurri e poi si apre in due modi, si apre sia frontalmente, e c'è uno specchio qua che bisogna spellicolare, e poi invece qua davanti c'è un cassettino, infatti stra 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 figo, perché l'anno scorso invece si apriva a metà e aveva tutte le caselline, i cassettini da tirare fuori. Quest'anno fatto così è ancora più scatola da conservare, perché l'anno scorso l'avevo tenuto e avevo poi messo i miei trucchi tutti dentro i cassettini, il problema è che non vedendo all'interno mi confondevo e non mi ricordavo più che cosa cavolo ci fosse dentro. Invece così io posso poi eliminare tutte le scatole dei, che comodo che è però stare su una sedia, posso eliminare tutte le scatoline che ci sono all'interno e utilizzare la box interna e il cassettino per mettere tutti i miei trucchi, quindi penso che lo farò tipo immediatamente. Allora, per quanto riguarda le specifiche sull'acquisto del calendario, sul giorno di uscita, preacquisto non acquisto eccetera eccetera, trovate tutto sotto in descrizione. Il mio codice sconto è applicabile ed è sempre valido, che è su OPS20, trovate anche questo sotto e lo potete cumulare con i coupon che ci sono con minimo di spesa sempre disponibili sul sito. Allora, su Instagram nel canale broadcast una sera mi stavo annoiando e ho aperto tre caselline e le ho condivise, quindi chi di voi le aveste già viste, questi tre prodotti li conoscete già. Io mi sono obbligata a non andare avanti, avevo fatto questa operazione a mezzanotte proprio perché così avevo sonno e non avrei avuto tempo e voglia di aprirlo tutto, ma ho dovuto comunque resistere. Quindi adesso vediamo, rivediamo ovviamente anche quelle caselline lì e vediamo tutto quello che c'è dentro. Sono molto, molto, molto fiduciosa. Quello che so è che nei calendari dell'avvento di E-Style sì ci sono tutte full size, di norma insistono parecchio sul make-up, trucchi orientali che sono sempre bellissimi, quindi cominciamo. Non ho modo di farvi vedere ogni volta la casellina che apro, però insomma il calendario ve l'ho fatto vedere. Iniziamo da quelle che sono sopra, ve le faccio rivedere cercando di parlare. ce ne sono alcune più grosse, alcune più piccole, ovviamente nel momento in cui le utilizzate come calendario dell'avvento dovete aprire anche il cassettino sotto per andare a cercare il numeretto che vi serve. Vi faccio vedere il cassettino qua, ecco qua, tirate e dentro ci sono tutte le altre caselline. Allora, let's do it! Le prendo a caso, non so fare questa, questa e quella, tanto sono già tutte, diciamo, scombinate, per cui, prima casellina numero 14. All'interno troviamo... Cavolo, io non vedevo l'ora! Allora, qui troviamo una Stay Fixer Packed Vegan. Questo qua è il brand, poi magari proviamo anche alcune cosine, vi faccio vedere bene. si tratta di una cipria. Madonna, poi packaging, ragazzi, packaging. Allora, qui c'è il puff per applicarla e all'interno c'è una cipria bianca, fissante, semplicemente. Seconda casellina, la numero uno, ovvero la prima. Ma poi che disegni carini, cioè, guardate, c'è un bracione con un pennello per il trucco. All'interno troviamo Pyongyang Yul Deep Clear Cleansing Balm, un balsamo struccante. Eccolo qua, il formato è molto molto simile ai Banila Co. Questo non lo conosco, non l'ho mai provato, però Pyongyang Yul ha la prerogativa di essere estremamente delicato, quindi ho fiducia che anche questo lo sia. Casellina numero 22. Qua c'è qualcosa di piccolino. Allora, qua dentro c'è un matitone di Art Class, si chiama Frottage Pencil ed è glitterata. Allora, per chi mi chiede spesso quando mi vedete leggermente truccata, ho sempre dei glitter sulla faccia. Ecco, tutti i miei glitter, matitoni, eyeliner, eccetera, eccetera, sono tutti trucchi di G-Style. In queste forbici potrei cavarmi un occhio da un momento all'altro. Art Class, tra l'altro, è un brand fantastico. Questa qui è un rosatino. Mamma mia, che bella. Guardate qua che roba. E poi, guardate come basta sfiorare e subito colora. E' bellissima, questa è bellissima. Ottima anche per dare una base shimmer luminosa al trucco, se volete uniformare la palpebra e metterci poi qualcosa sopra. Se la stendete, rimane, vedete, traslucidina e leggermente coprente. Casellona numero 18. Non vi fate prendere troppo dalla dimensione delle scatole, perché anche quelle grosse all'interno possono contenere qualcosa di piccolino. Pennelli. Tuning Brush Set. Marina, vattene via da qua. Ah, qua dentro c'è un bellissimo set di pennelli. Anche i pennelli coreani sono molto molto buoni. Con la puntina lilla e la borsettina per tenerli all'interno. Casellina numero 12. Allora, qui abbiamo una tinta di Amuse. Di Amuse devo aver avuto già qualcos'altro. Carinissimo esteticamente, guardate qua. Sembra che ci debba essere qualcosa, invece è trasparente e vuoto. Queste sono quelle tinte un po' caramellose, che rimangono sia sfumabili sia molto glossy e molto molto naturali. Ci potete fare proprio il classico effetto coreano sfumato, tamponato, oppure anche gli effetti, insomma, un pochettino più strong. Casellina numero 6. Sembra che sto facendo le estrazioni dell'otto. Vedete che c'è tanto makeup. Adesso non so se poi più avanti ci sarà più skincare. Però fino adesso come skincare abbiamo trovato un solo prodotto. E ho già aperto una, due, tre, quattro, cinque, sei caselle. Comunque, all'interno qua c'è un brow fixer, che apprezzo, lo apprezzo, lo apprezzo. Forse sono arrivata a un punto in cui apprezzo più il makeup della skincare, non lo so, non chiedetemi. Questo qua è un mascara fissante per sopracciglia, non dovrebbe essere colorato. Ah no, infatti, proviamolo subito. Io adesso considerate che ho quello di NYX, che è Vinavil praticamente. Però devo dire che anche questo qua fa il suo e lo fa subito. Io ho delle sopracciglia molto rigide, quindi trovare un mascara che me le fissi immediatamente, senza che debba stare lì tre ore a lavorarci, è difficile. Però vedo che questo qua le tira su bene e rimangono bene in posa. Quindi lui è approvato. Casellina numero 17. Vediamo se ci porta fortuna e c'è della skincare. Ebbene sì, c'è della skincare! Abbiamo il Ialuronic Acid 3. con amminoacidi e ceramidi di Cosarax. Un gran siero questo, ragazzi. L'ho provato, è veramente fantastico. Raga, i calendari dell'avvento coreani sono meglio di quelli occidentali. E con questo passo chiudo. Casellina numero 21. Anche qua abbiamo della skincare. Che bellezza! Allora, qui abbiamo il siero con il 10% di acidi PHA, si chiama Glow Peel ed è di Axis Y. Sono quei prodottini antimacchie. Axis Y è un brand che fa diversi prodotti antimacchie, appunto, dalle creme ai sieri, eccetera, eccetera. E questo qua è uno di quelli di quella linea lì. Quindi, attenzione perché è un prodotto che va sciacquato, comunque c'è scritto. Bisogna layerizzarlo sul viso pulito e lasciarlo dopo, sciacquarlo dopo 10-15 minuti. Casellina numero 23. Mi hanno sentita e adesso stanno facendo tutto skincare, è facile così. Allora, qui abbiamo un prodotto di Mison che si chiama Phytoplump Collagen Night Cream. Eccola qua. Questa qui non la conosco, ma consiglio spesso i prodotti con bova di lumaca di questo brand. Questo prodotto qua è vegano, tra l'altro. Proverò perché mi ispira molto. Ricordatevi sempre che il collagene all'interno dei prodotti skincare è solamente molto idratante, quindi non vi aspettate chissà che cosa, effetto filler e robe. Però è comunque una buona abitudine avere anche dei prodotti, degli ingredienti idratanti nella skincare. Questo piccolo dino, sarà un dino, sarà un bambi. Casellina numero 15. Questo ve l'ho fatto vedere nelle foto sul broadcast. Sono dei peggiochi, ma quanto sono belli! Voglio vedere la scatola dentro. Si chiamano Eyes Pop, Hydrogel Eye Mask. Eccoli qua. Con Blueberry and Cream. Avranno una profumazione, secondo me. Sono 60 pezzi, 30 paia, perché le mettete due alla volta, ovviamente. La scatola è qualcosa di stupendo, molto anni 90, molto super wow, con tutte queste faccine. Mi piacciono già solo per il packaging. Anche se non ho mai visto e ne sentito questo brand, che si chiama Coelf. Box numero 24. Questa sarebbe l'ultima box. C'è l'ultima che dovreste aprire, se lo usaste come calendario dell'avvento. Unliascia Glitterpedia. Questa forse l'ho già avuta, sapete? L'ho avuta e ve l'ho regalata su Vinted, mi sa. Aspettate che vedo se è quella. Ci assomiglia, ci assomiglia molto. Allora, packaging a libro, io smatto per questi packaging esterni, anche se sono un sacco di carte, sono inutili, sono bellissimi. E questa qua è la palettina. Se volete, dei glitter, Unliascia è uno dei brand che fa i glitter migliori, secondo me. Ci sono anche dei glitter liquidi, degli eyeliner, che sono delle cose stellari e si vedono da morire, anche se siete tipo al buio o se non siete sotto delle luci particolari. Questa qua è una palettina tutta glitterata. Ora mi viene in mente che quella che avevo io era una via di mezzo. Questa qui invece ha soltanto shimmer e alcuni di loro sono anche molto molto glitterati. Vi faccio vedere. Qualcosa, giusto per farvi capire. Cioè, guardate quanto cacchio sono glitterati. No, vabbè, sembrano quelle robe di TikTok quando si spalmano le cose coi filtri. Qua non ci sono filtri, eh. Ho soltanto la ring light. Guardate che roba. Cioè, immaginatevi fare un make-up con questi qua, piuttosto che un grosso make-up stile Quacella. Ma poi, forse dal video non si nota, però questo è molto molto rosato. Questo è stile unicorno, questo è sul verdino. Cioè. Che belle, che belle. Quest'ombra che ho dietro, tipo Slenderman. Casellina numero 7. Per ora sono soddisfatta di tutto. Di questo ne ho 300. Retinol Intense, versione contorno occhi. Di questo qua c'è anche il siero, di Son By Me, che consiglio tantissimo. C'è anche la crema occhi. Contiene retinolo puro allo 0,1%. Mi sembra... Allora, se è fatta come il siero, c'è anche la retinaldeide. Però... C'è la niacinamide. Beh, non ho voglia di leggere tutto l'inci. Comunque, il siero ha anche retinaldeide. Comunque, all'interno contengono ceramidi, quindi sono molto ben tamponati. Abbiamo finito la parte superiore. Io sto già in fibrillazione perché sarà una box enorme con uno specchio bellissimo per tutti i miei trucchi. E apro il cassettino di sotto. Adesso lo tiro tutto fuori. Così ve lo faccio vedere anche tutto aperto. Guardate i disegni sempre bellissimi. Adesso cominciamo da questo orsetto. Dov'è? Questo orsetto qua, solo perché mi piace tantissimo. L'orsettino con... Tra l'altro... Vi faccio vedere una cosa. Questa è una cosa che mi ha fatto impazzire anche l'anno scorso. Sulle scatole dei calendari dell'avvento di Ye Style ci sono sempre dei piccoli spoiler. Perché disegnano cartonizzati alcuni dei prodotti che trovate all'interno. Ovviamente di questo qua ce ne sono diversi. Quindi qua non sapete se sia l'acido ialuronico, il retinoro, la vitamina C, eccetera. Però combinazione... Cioè, ad esempio... Adesso vi ho già aperto il rossetto quello di... La tinta labbra. E qua... Ed è lui. Cioè, vedete che gli hanno fatto anche il tappino trasparente. Sono bellissimi. Ovviamente se non conosciete i prodotti non ci potete sempre arrivare. Però... Adesso stavo cercando se ce ne fossero altri, ma non li ho ancora trovati. Però ecco, ci sono questi piccoli spoiler che mettono anche sulle scatole. E' un'attenzione particolare che mi piace un sacco. Allora, all'interno di questo rossetto c'è... Ah, ok. Questo qua che vi ho fatto vedere nel canale broadcast. E' un detergente delicatissimo a base di ceramidi di Klyrs. E' un cleansing foam con acido ialuronico, appunto, ceramidi essenziali. Allora, qui dentro c'è il disegno di un prodotto makeup lungo. Vediamo se corrisponde. Corrisponde. E sono di nuovo glitter. E' un'altra delle mie matitozze con i glitter all'interno. Glittering Eye Stick. Credo di averne già una di questo brand, fra l'altro. Wow! Burrosissima questa. Veramente burrosissima. Ed è questo colore qua. Tutti questi glitter voi li potete anche spalmare. E far diventare tanti glitter. Cioè, vedete? Vi dà un effetto tipo stardust. Se lo spalmate. Altrimenti avete un effetto un pochettino più intenso se li lasciate senza spalmarli. Quando finisco queste cose sono sempre piena di glitter. Casellina numero due. C'è il disegno di... Non lo so, potrei sospettare un trattamento spot. No, qua non c'entra una mazza. C'è un... Questo. Allora, questo è di Lily Byred. Lufbeam Cheek Balm. Ah! Un balsamo... Per le guance. Un blush in crema. Fatti a cuoricino. Questo brand è un brand che fa cose carinissime. Che sembrano tutti giocattolini. E ha questa serie di blush. A forma di cuore. Ecco qua. Io ne ho già uno in polvere che mi piace tantissimo. Questo qua è in crema. Quindi per un maggiore effetto glass skin. Tra l'altro adesso sul viso ne ho un po' di correttore e uno di questi blush qua. La versione rosa Barbie in polvere. Casellina numero dieci. Qui c'è un sieretto e anche qua dentro non c'è un sieretto. Abbiamo una super palettina beige brown di McQueen. McQueen per esempio per me è devastante per i prodotti sopracciglia, brow gel e tutte queste cose qua. Poi ha dei packaging super professionali. Sembra un po' la MAC coreana. E questa qua è la palettina tricolore per dare profondità, fare un po' di contouring. Siamo comunque per adesso a una maggiore quantità di make up. Qui abbiamo la retinol intensa disegnata. All'interno c'è skin care. E c'è precisamente il calming serum green tea più pantenolo di Beauty of Johnson. Questo qua visto e rivisto è molto molto buono. So che tanti di voi lo conoscono già. Casellina numero tre. Anche questo. Questo è il terzo e ultimo prodotto che vi ho fatto vedere nelle storie. E fra l'altro si vede perché l'ho aperto proprio col culo e si è strappata tutta la scatola. Ma è un balsamo di quelli miei che mi piacciono tantissimo. Questo qui non ha profumo. È un balsamo idratante. Gli stick, i miei stick favolosi. Quelli con cui mi stucco tutto l'inverno per la pelle strasecca. Questo qua va benissimo per contorno occhi. Per da mettere da riapplicare sulle zone più critiche. Se avete delle aree molto secche eccetera eccetera. Dunque sugli style trovate. Io qua sotto vi metto tutte le specifiche anche di ogni singolo prodotto. Quindi se volete cliccarli sugli style li potete anche acquistare singolarmente. Cioè vi ne piacciono quattro. Non ve ne frega una mazza del calendario dell'avvento. Vi comprate soltanto quelli. E sugli style trovate tutti gli inci. In italiano barra inglese comunque comprensibili. Casellina numero 9. Guarda a occhi chiusi questa è una crema a mani. Blending and... Ma perché ci devono mettere sempre la crema a mani in tutti i cavolo di calendari dell'avvento? Cioè ma la crema a mani è una cosa inutile. Sulle mani vi potete mettere quello che vi avanza. Quello che non vi piace. Quello... Cioè per me una casellina con un prodotto... Una crema a mani dentro è sempre uno spreco. Io accumulo creme a mani che poi non uso perché mi danno anche fastidio. A volte le metto di notte ma boh. Comunque vabbè apprezziamo che sia di frudia. È anche molto bella da vedere. E la solita crema a mani ce la siamo cuccata anche quest'anno. Mancano 5 caselline. Casellina numero 11. Qua c'è il disegno di un secondo me tonico barra essence. E all'interno abbiamo... Crema alla centella. Questa è la SPF di Unique con la centella asiatica all'interno. Anche questa vista rivista. Casellina numero 20. Wow! Qua abbiamo una combo labbra peripera. Ink Velvet Lip Tint più Liner Set. Peripera super per le tinte labbra. Qua avete sia la matita sia la tinta. Che dal video sembrano molto più marroni. In realtà sono sì base mattone. Però è più nude come colorazione. Casellina numero 16. What is this? Double eyelid liner. Ah, un eyeliner. Ma è rosa. Raga, è di sto colore qua. Secondo me, ma dico secondo me ignorantemente, è uno di quei prodotti che i coreani utilizzano per disegnarsi le occhiaie. Sapete che si fanno sempre i puffy eyes? E sembrano sempre che stiano così. Perché trovano che questo piccolo gonfiore, la congestione sotto l'occhio, li faccia sembrare più carini, più pucciosi, più baby. Normalmente chi non li ha se li disegna. Secondo me questo è uno di quei prodotti per crearvi un po' di rossore sotto gli occhi. Mi terrorizza perché non si sfuma, perché avrei voluto provare a farci delle robe tipo un make-up, no make-up. Mi sono appena svegliata, che figo. Però se non si sfuma la vedo difficile. Vedremo. Casellina numero 8. Lashperm Volume Fix Mascara. Non impazzisco per i mascara coreani, però questo qua ha una forma abbastanza. I mascara coreani non allungano, non infoltiscono. Gli orientali hanno delle ciglia molto dritte, corte e ne hanno poche rispetto agli occidentali. E quindi loro mascara, non potendo fare il miracolo, probabilmente sono tutti un po'... Vabbè, però. Ultima casellina, la numero 13. Poi magari vi faccio vedere come ho organizzato tutto il mio make-up dentro la box. Haru Haru Wonder Black Rice Yaluronic Essence. Questo qua ci piace tanto, perché è la essence all'acido yaluronico di Haru. Tadam! Perfetto. Il calendario dell'avvento è finito. Sono soddisfatta sì tantissimo. Hanno combinato, secondo me, dei prodotti skin care molto molto interessanti a tanto tanto make-up. Quindi valutate se vi piace questo tipo di make-up. Perché secondo me i trucchi orientali, i trucchi che trovate su YesStyle, devono piacere. Sono particolari. Non è sicuramente NYX, non è sicuramente niente di americano. Sono diversi. Però sono di ottima qualità, quindi se piace uno stile del genere, secondo me questo calendario dell'avvento è devastante. Il mio voto è super positivo. Come vi ripeto, tutte le caratteristiche del calendario per acquistarlo o non acquistarlo, eccetera, le trovate qua sotto, insieme alla lista dei prodotti. In modo che, appunto, se vogliate, nel caso vogliate acquistare qualcosa di singolo, lo potete fare comunque. I miei prodotti preferiti, sicuramente i peciocchi, questi qua, perché amo i peciocchi e questi qua hanno un packaging devastante. Lo stick, questo per la pelle secca. E la palettina tutta glitterata di Undiasha. Fatemi sapere quali sono i prodotti che avete preferito voi in assoluto. Io adesso vado a sistemare questo casino perché ho box dappertutto. e ci vediamo nel prossimo video. Probabilmente sarà un altro video a tema calendario dell'avvento. Spoiler, non vi spoilerò di che cos'è, ma ci potete arrivare tranquillamente. E grazie e alla prossima. Ciao.